Ciao Guerrieri di Luce! Ciao! Io sono Josue e io sono Valerio e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, meditazione, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro e oggi come libro abbiamo scelto Conversazioni con Dio di Neil Donald Walsh. Io inizierei Josue dicendo intanto che l'autore ha scritto il libro nel 1995 e diventato subito un bestseller internazionale. Perché è diventato un bestseller internazionale? Perché è stato scritto come un dialogo intimo tra l'autore e Dio. Ovviamente non è il Dio cattolico e cristiano, ma è un Dio universale, ognuno può chiamarlo come meglio crede. Questo libro è stato scritto in un momento di forte crisi da parte dell'autore, l'autore aveva avuto dei fallimenti lavorativi, il matrimonio perfino era fallito e aveva avuto un grande incidente d'auto. E quindi preso dallo sconforto ha iniziato a scrivere delle lettere indirizzate a Dio e in maniera quasi automatica ha avuto queste risposte. Lui ha sentito che questi discorsi arrivavano proprio dall'interno di se stesso e quindi non li ha paragonati a una voce esterna, ma come un discorso intimo tra lui proprio e questa entità che lui riconosce come Dio. All'inizio è rimasto sorpreso, tanto che non credeva in quello che aveva scritto, queste risposte che aveva, perché ovviamente ragionava con la mente razionale e quindi le vedeva come un costrutto della sua mente. Ma poi quando è andato a rileggere ha capito che in realtà erano dei messaggi universali e quindi non potevano arrivare da una sua invenzione, da un costrutto mentale e quindi li ha presi sul serio. Quindi possiamo dire che attraverso queste lettere, attraverso questo dialogo, lui ha avuto accesso a una sorta di saggezza profonda che forse appartiene un po' a tutti noi, un po' come sostengono gli sciamani delle Hawaii o come sostenevano visto che ormai non ci sono quasi più, ovvero che dentro ognuno di noi c'è una scintilla divina, un qualcosa che potremmo definire proprio Dio. E probabilmente Walsh in questa comunicazione epistolare si è messo proprio in contatto con questa parte divina di sé, che ne pensi? Assolutamente sì, tanto che lui dice che tutti possono mettersi in contatto con questo grande spirito, chiamiamolo così, che è un termine che a noi risuona maggiormente, che non è demandato solo a persone esclusive. Spiega proprio che entrando in meditazione possiamo accedere a questo luogo dove ci sono tutte le informazioni. Diciamo che abbiamo scelto questo libro proprio perché una persona che ci segue ce l'ha consigliato. E poi noi leggendolo abbiamo trovato anche molte cose in comune con la cultura sciamanica. Quindi il titolo è Conversazioni con Dio, ma se chi inizia a leggerlo pensa di trovare al suo interno dei dogmi cattolici, per esempio, o degli insegnamenti morali, ha sbagliato proprio testo. Perché in realtà questo Dio con il quale comunica l'autore sembra più il grande spirito, come dicevamo prima, dei nativi americani. Anche perché uno dei primi concetti espressi da Walsh è il fatto che noi non abbiamo una separazione con Dio. In realtà Dio è tutto ciò che è. Ognuno di noi è un frammento di Dio e quindi tutto il creato, tutta l'esistenza insieme è in effetti questa forza, questa energia che dà vita al tutto. È Dio. Un esempio pratico per comprendere questo concetto potrebbe essere quello dell'oceano. L'oceano ovviamente è d'acqua, ma in superficie ogni tanto vediamo delle onde. Guardando queste onde possono sembrare che sono separate e quindi è la stessa cosa che succede alla nostra vita. Siamo tutti individui, ma facciamo parte poi tutti del solito universo. Per poter fare anche un'altra metafora, lo stesso deserto che possiamo identificare guardandolo come un'entità unica, in realtà è composto da tantissimi granelli. Ecco, noi siamo come questi piccolissimi granelli che compongono l'intero deserto. Questo è il concetto di Dio che viene fuori chiaramente da questo libro. Potremmo continuare, Giosuè, dicendo che un ulteriore argomento che è trattato in questo libro è il fatto che Dio non è giudicante e noi siamo gli artefici del nostro destino con le scelte che facciamo ogni giorno. Perché ci fa capire che proprio attraverso queste scelte noi siamo gli artefici del nostro destino. E un concetto chiave, molto bello, che troviamo in questo testo è il fatto che Dio non è giudicante. Cioè il giudizio, l'autore, ci vuol far capire che è una costruzione dell'uomo. Il concetto di giusto, di sbagliato, di bene, di male. Anche perché se vogliamo veramente asserire che Dio è tutto ciò che esiste, allora anche ciò che noi consideriamo essere male in qualche modo è un aspetto di Dio. E qui magari qualche cattolico gli si potrebbe accapponare la pelle a questa affermazione. Però ecco, l'importante è capire che ogni esperienza, sia essa positiva o negativa, ha una funzione, ha un valore. Tant'è che quando ci troviamo a vivere delle situazioni difficili, che ci creano dolore e sofferenza, queste esperienze, queste prove quasi iniziati, che vorrei dire, ci servono per evolverci, per diventare delle persone migliori, per diventare più comprensivi anche nei confronti di chi soffre e degli altri. Finché non sperimentiamo un certo tipo di esperienza o un determinato dolore, noi non possiamo comprenderlo e quindi non possiamo entrare in empatia con chi sta vivendo con la realtà. Un altro concetto chiave che viene fuori da questo testo e che considero essere molto importante è il fatto che il concetto di giusto o sbagliato, di bene e male, è una costruzione dell'uomo. Quindi non è un qualcosa che ci viene imposto come modello comportamentale da questa entità divina. Tant'è che anche l'autore fa degli esempi in questo senso, ci fa capire che in base anche alla cultura dove noi ci troviamo a nascere e a crescere possiamo avere dei valori di giusto o sbagliato completamente diversi da altre culture. Possiamo fare degli esempi pratici, no? Per esempio in alcune culture una donna si deve sposare presto, no? Perché deve mettere al mondo dei bambini, ma in altre culture magari invece il sposarsi presto potrebbe essere visto come un abbandonare i propri progetti, no? Per dedicarsi anima e corpo alla famiglia quando magari non è il suo progetto divino. Inoltre l'autore ci tiene a far capire, proprio attraverso questi messaggi che ha ricevuto da Dio, da questa entità, che la sofferenza, il dolore, quindi tutto ciò che noi consideriamo essere negativo ha in realtà una funzione. Non è che noi siamo costretti a sperimentare la parte oscura della realtà, il male, perché c'è un Dio che si diverte a vederci soffrire. Non è questo il senso. La sofferenza ci permette di crescere e di evolvere, per cui se noi ci troviamo a sperimentare una malattia dopo aver vissuto questa esperienza, senz'altro avremo molta più compassione ed empatia proprio nei confronti delle persone che soffrono, che stanno vivendo quella realtà. Quindi Giosuè hai parlato di malattia, ma solitamente quando si parla di malattia una delle prime cose che le persone sperimentano è la paura, cosa che invece l'autore ci dice che dobbiamo sempre sintonizzarci sull'amore, non sulla paura, perché la paura ci spaventa, ovviamente ci allontana, divide, crea stress, mentre l'amore unisce sempre e quindi anche da un'esperienza negativa dobbiamo aprirci all'amore per comprendere che cosa possiamo imparare appunto da quell'evento. Un altro messaggio infatti che io ritengo essere molto in linea con gli insegnamenti sciamanici è proprio l'idea che ci sono queste due forze che in qualche modo ci governano. Una forza è la forza dell'amore e la forza dell'amore dà vita anche se vogliamo a tutto ciò che esiste in questo pianeta, l'amore è il motore dell'universo, è ciò che fa crescere e prosperare tutto ciò che è. Poi c'è un'altra forza che invece è la forza della paura, che è in contrapposizione. Quindi secondo Walsh l'amore e la paura sono agli antipodi, sono l'uno l'opposto dell'altro. Se io vivo nella paura non posso sperimentare l'amore. Fateci caso anche voi a casa, ogni volta che vi trovate a vivere la paura diventa quasi impossibile riuscire a sperimentare l'amore. Paura che cosa vuol dire? Prendiamo per esempio anche la pandemia che tutti noi abbiamo vissuto ognuno a suo modo, però ecco durante quel periodo l'energia della paura si sentiva molto palpabile nell'aria, la gente era terrorizzata e proprio a causa di questa paura si sono create anche tutta una serie di ingiustizie, di divisioni sociali, di conflitti, di lotta l'uno con gli altri, in un periodo in cui in realtà, ma proprio anche a livello logico, avrebbe avuto molto più senso rimanere coesi, rimanere uniti e ascoltare anche l'opinione altrui che magari differiva dalla narrazione ufficiale. Ovviamente Giosuè la paura porta molto spesso alla sofferenza. Noi abbiamo paura di soffrire, ma l'autore ci fa capire che spesso la sofferenza è uno spartitrattico, è qualcosa che ci serve per trovare la strada giusta. Prima hai parlato della pandemia, è un esempio che possiamo portare e forse abbiamo già riportato, è quello anche del mio lavoro. Ovviamente durante la pandemia io ho perso lavoro e quindi c'è stata una grossa sofferenza, però questo mi ha portato a rimettermi in gioco e a portare avanti quello che era il mio vero desiderio, che era quello di seguire la via sciamanica e quindi di permettere ad altre persone di apprendere lo sciamanesimo tramite i nostri insegnamenti. Hai fatto un ottimo esempio che ci fa capire che ci sono sempre due strade che noi possiamo percorrere quando ci troviamo a vivere un dolore, una sofferenza, una malattia, qualcosa che ci fa soffrire, un'ingiustizia. Possiamo rimanere nella paura e nel senso anche di aver subito un torto, quindi incarnare anche il ruolo della vittima e questa è una strada che solitamente prende la maggior parte delle persone. Oppure possiamo prendere la strada della fede, di aprirci a Dio in questo caso e confede maturare la convinzione dentro di sé che se è avvenuto quell'evento c'è senz'altro un motivo, un motivo per il nostro bene. Questo motivo può essere anche spingerci verso il nostro destino, spingerci verso qualcosa di importante che dobbiamo sperimentare in questa vita o anche a volte spingerci verso una persona che proprio a causa di quella situazione ci troviamo ad incontrare, a conoscere che può diventare magari molto importante per il nostro percorso. Chiaramente se rimaniamo sintonizzati sulla paura ci perdiamo tutte le cose belle che l'evento per quanto sia negativo e drammatico è venuto a consegnarci. Mentre se noi ci apriamo all'amore e quindi alla fede accogliamo a braccia aperte tutti questi doni che l'evento per quanto la nostra mente razionale giudichi negativo è in realtà venuto a consegnarci. Quindi situazioni, esperienze, nuovi capitoli entusiasmanti della nostra vita che si possono aprire proprio grazie a questa porta che a livello diciamo apparente assumeva le sembianze di un evento negativo. Sai Josue, credo anche che la felicità arrivi dall'interno e non da eventi esterni. Quindi noi cerchiamo sempre di trovare realtà la felicità da ciò che viene da fuori, che siano eventi come in questo caso abbiamo parlato della pandemia, della perdita del lavoro e quindi l'evento sarebbe stato di non perdere lavoro e di aver continuato il lavoro che facevo prima per raggiungere la felicità. Quando in realtà era un evento negativo ma io la vera felicità l'ho trovata perdendolo il lavoro. L'ho capito solo dopo, ho fatto l'esempio del lavoro ma spesso noi la felicità la cerchiamo in beni materiali, nell'acquistare una casa, nell'acquistare una macchina, nell'andare in vacanza e poi per accorgersi che alla fine della vacanza una volta che abbiamo acquistato la casa o la macchina questa felicità è effimera perché la felicità è uno stato dell'essere e quindi la felicità la troviamo all'interno e ritornando sull'esempio di prima era proprio la scelta di cambiare lavoro che mi poteva portare alla felicità ma questo l'ho capito solo dopo. Quindi possiamo dire che i nostri spiriti alleati o se vogliamo chiamarlo Dio grande spirito a volte ci porta a sperimentare delle situazioni difficili, delle prove proprio perché da soli non abbiamo avuto il coraggio di fare determinate scelte. Allora ci metti alle strette come nel tuo caso. Basta da domani non hai più quella realtà, non hai più quella routine, non hai più quel lavoro. Che cosa fai? Ora tu chiaramente essendo stato in un percorso spirituale di crescita e di consapevolezza hai diciamo raccolto bene la sfida e hai saputo giocare bene le tue carte ma capisco anche che chi invece non ha questa apertura mentale di capire che dietro un evento nefasto si può nascondere in realtà la nostra più grande fortuna solitamente tende a irrigidirsi e attaccarsi ancora di più a quello che ha perso perdendosi così tutta un'altra serie di eventi, situazioni, circostanze, opportunità che invece potrebbero venirgli incontro. Anche perché Giosuè siamo in questa società dove ci indicano che la felicità si raggiunge in un determinato modo, quando in realtà non è così. Noi siamo, l'abbiamo detto prima, siamo dei co-creatori della nostra realtà. Noi abbiamo una tela bianca davanti a noi e tutti i giorni possiamo dare una pennellata a indirizzare la nostra vita. E anche qui troviamo un altro concetto molto sciamanico, ovvero che ognuno è co-creatore della propria realtà, del proprio destino se vogliamo. E come crea la propria realtà? In base anche a quello che matura dentro di sé, perché tutto parte da dentro. Anche secondo Walsh il nostro stato emotivo, il modo in cui pensiamo, le nostre forme pensiero ricorrenti, ma soprattutto le nostre emozioni, i nostri sentimenti, sono proprio i mattoni che creano e determinano la nostra realtà e il nostro destino. L'abbiamo detto tante volte, no? Questo concetto, perché è un concetto cardine, chiave, che è importante che le persone comprendano profondamente. Noi non possiamo pretendere di essere felici o di ottenere le cose che desideriamo e quindi manifestare una realtà di gioia e di amore se dentro di noi siamo nelle tenebre, se dentro di noi viviamo nell'odio, nel rancore, nella frustrazione, nella sofferenza. È impossibile, perché tutto ciò che saremmo portati spontaneamente a creare sarà in risonanza con quello che noi abbiamo alimentato dentro di noi. Quindi è molto importante fare anche un percorso di meditazione, di ascolto interiore, di consapevolezza, soprattutto per individuare cosa noi stiamo coltivando nel nostro giardino interiore. Perché finché non ci fermiamo un attimo a riflettere, a meditare, a entrare in contatto con noi stessi, noi non siamo realmente consapevoli di cosa si agita dentro di noi. Andiamo con il pilota automatico e quindi assorbiti magari dalla routine della giornata, stiamo in uno stato di stress, di ansia, ci arrabbiamo con il collega di lavoro, imprechiamo con quello che ci taglia la strada e questo chiaramente rappresenta la maggior parte del nostro tempo in termini di movimento interiore e inevitabilmente questo movimento andrà poi a creare la tempesta fuori che saremo portati a sperimentare e che si manifesterà attraverso eventi di sofferenza, dolore, stress e quant'altro. Quanto secondo te Giosuè il perdono può influire sulla felicità? Hai parlato prima di una macchina che ti attraversa la strada, ovviamente lì è semplice perdonare, ma quanto in realtà il perdona può aiutarci? Allora io ho riflettuto molto sul perdono nell'ultimo periodo perché comunque anche nei nostri insegnamenti abbiamo sempre invitato le persone a perdonare, però più che la parola perdono io penso sia molto più adatto insegnare alle persone a lasciare andare, perché non vorrei che perdonare per qualcuno sia un sinonimo di giustificare, non è così, perché se una persona ci ha fatto del male, se un genitore ci ha fatto del male, se abbiamo subito degli abusi, se abbiamo subito dei torti, noi non possiamo mai giustificare quello che c'è stato fatto, ma possiamo lasciare andare il dolore, la sofferenza, la rabbia, il desiderio di vendetta, tutti questi veleni noi dobbiamo lasciare andare, quindi se perdonare vuol dire lasciare andare tutto ciò che ci lega con uno spago colmo di negatività a quella persona, a quella situazione, a quell'evento, ben venga utilizzare il termine perdonare, ma io penso che sia più comprensibile per chi ci ascolta far capire che ciò che dobbiamo fare è lasciare andare. Se rimaniamo legati a una persona per rancore, perché pensiamo che ci ha fatto un'ingiustizia, perché ha deluso le nostre aspettative, noi la teniamo legata a doppio filo a livello energetico, ma non con un'energia di amore, di gioia, di benessere, ma con un'energia colma di veleno psichico, perché ogni volta che penseremo a quella persona saremo portati a far riaffiorire dentro di noi quei sentimenti di rancore, di rabbia, di frustrazione, di vendetta e così via. Quindi tagliare questo legame nocivo, tossico, ok mi hai fatto questo, riconosco che mi hai fatto questo, non ti perdono, nel senso che non ti giustifico per quello che hai fatto, ma ti lascio andare, basta. E questo vuol dire anche dividere le strade a volte, no? Perché se io mi rendo conto che una persona ha un animo malvagio e che quando si relazione con me lo fa soltanto per farmi del male, anche se dovesse essere un familiare, eh ahimè ragazzi bisogna fare la nostra scelta, io non ti giustifico, so, ti vedo per quello che sei, finalmente è venuta giù la maschera, il velo, finalmente ti vedo e quindi il mio dovere è proteggere il mio bambino interiore e quindi non posso giustificarti, ma posso tagliare questo cordone energetico e lasciarti andare nel tuo brodo di negatività, che non mi interessa, non mi appartiene, non fa parte di me. Questa tua visione è poi la visione del libro, no? Ti hai parlato di tagliare, io più che tagliare direi che non dobbiamo scordare, lo dice anche l'autore, non si scorda l'evento, ma dobbiamo dimenticare l'emozione legata all'evento che ci fa star male in questo momento, quindi l'evento è superato, lo apprendo, lo so, lo ricordo, ma devo tagliare tutto ciò che mi fa star male e solo perdonandolo questo riesco a farlo, ma ti ripeto perdonare non significa giustificare. Ma anche dargli un valore, no? Quindi anche se qualcuno ci ha ferito, ci ha deluso fortemente, ci ha messo profondamente in crisi, è tutto un insegnamento, anche quello è stato un insegnamento. Quindi sì, lascio da parte, lascio andare il dolore, va benissimo, però mi porto a casa l'insegnamento ricevuto e ognuno avrà il suo insegnamento da una situazione piuttosto che da un'altra, è inevitabile. Walsh inoltre ci fa capire quanto l'intento nelle pratiche, nella vita sia importante, no? E questo è un altro punto molto similare allo sciamanesimo, perché anche nello sciamanesimo l'intento è tutto. Per esempio l'intento è alla base quando si effettua un viaggio sciamanico, io non posso esplorare il mondo dello spirito così tanto per fare, ma devo andarci con un intento. L'autore però va oltre a questo, l'autore divide anche l'intento positivo e l'intento negativo, perché per esempio se io faccio beneficenza posso farla perché sento veramente la necessità di fare del bene del mondo, ma posso anche farla perché fare beneficenza magari mi rende più buono agli occhi degli altri, mi fa sentire speciale, mi fa sentire migliore, superiore agli altri e questo è fondamentale perché ovviamente se uso un intento fallace il risultato non sarà quello sperato. Sì, questo esempio della beneficenza diciamo che è molto attuale, effettivamente abbiamo avuto un esempio nell'ultimo periodo appunto legato proprio a una beneficenza fatta non per amore, non per voglia di contribuire al benessere del mondo degli altri, ma per un proprio tornaconto. Ecco in questo caso chiaramente tu puoi aver fatto tutta la beneficenza che vuoi, ma dentro di te non hai coltivato amore, compassione, generosità, tutt'altro hai coltivato egoismo e poi anche di sfruttare una situazione per il tuo tornaconto e quindi anche in questo caso quello che tu hai coltivato dentro di te prima o poi uscirà fuori e quindi ci saranno le conseguenze di questo tuo intento malevolo. Ma attenzione, il tutto non perché c'è un concetto di giusto o sbagliato e quindi dei dogmi, dei comandamenti e delle leggi che noi dobbiamo seguire pedissequamente, non è questo quello che l'autore vuole trasmetterci, ci vuole semplicemente trasmettere che quello che ho dentro creo fuori, così dentro, così fuori, è un'equazione matematica. Quindi se io voglio una vita colma di amore, gioia, amicizia, benessere, felicità, abbondanza, ricchezza, tutto quello che vogliamo, tutto questo deve partire da dentro e non soltanto a livello ego riferito, anche nella mia relazione con il prossimo. E quindi in maniera molto più semplice si ritorna ai concetti sciamanici di utilizzare il cuore e non la mente logica, perché ovviamente nel fatto della beneficenza, se io faccio beneficenza con il cuore sto bene anch'io oltre aver fatto del bene, ma se io faccio beneficenza per puro interesse, quindi utilizzando la mente razionale, sì farò ovunque del bene, ma la mia felicità non la trovo perché so che è fallace quella cosa che ho fatto, so che quella cosa non è veramente sentita da me. È verissimo questo, sì, quindi anche per star bene con se stessi è importante utilizzare degli intenti che noi, per la nostra cultura, per il nostro intuito interiore, riconosciamo essere la via giusta. Un ultimo concetto molto importante che viene espresso nel libro è quello del tempo, della visione del tempo non lineare, ma una visione più sciamanica e quindi che tutto è ora. Anche questa visione del tempo di cui ci parla Walsh, io la trovo molto similare se non addirittura identica alla visione sciamanica, dove ci viene insegnato che il tempo non è lineare, ma è circolare e quindi è un po' come se fosse già tutto lì, un eterno presente. Poi la mente, che è limitata, non riuscendo a comprendere la vastità dell'esistenza, crea lei stessa l'illusione di un prima e di un dopo, crea a tutti gli effetti l'illusione del tempo. E possiamo fare l'esempio, non so, di un dvd dove all'interno c'è un film o di un libro dove all'interno c'è una storia con tutti gli eventi espressi in maniera sequenziale. Sì, è vero, io per prendere consapevolezza di cosa c'è all'interno del libro, lo devo leggere dall'inizio alla fine, quindi devo prendere il mio tempo e fare l'esperienza di leggerlo. Ma ciò non toglie che se anche io a livello di coscienza sperimento gli eventi in base al mio ritmo di lettura, la mia velocità, ciò non toglie che gli eventi erano già lì, prima che io leggessi il libro. Questo è il concetto sciamanico, è tutto lì e magicamente non è tutto prestabilito, è tutto in eterna e continua mutazione, quindi come dice anche l'autore, ci sono delle informazioni, è come se fosse una sorta di campo quantico, ma in base al modo in cui noi vibriamo e quindi in base anche a quello che ci anima dentro, noi possiamo spostarci da un punto a un altro di questa realtà e quindi sperimentare cose diverse. Sì, Giusuè, secondo me questo libro è un libro che deve essere letto. È un libro di sciamanesimo se vogliamo, ma possiamo anche dire che è un libro colmo di insegnamenti che hanno un profondo valore filosofico, insegnamenti che tra l'altro molti altri maestri nella storia dell'umanità sono venuti a consegnarci, no? Per cui per questo molte cose presenti in questo testo, in queste conversazioni che l'autore ha fatto con Dio, noi riusciamo a trovarli magari, non so, nella filosofia buddista, piuttosto che nella visione sciamanica della realtà e in molte altre filosofie. Sì, solo che questo libro può arrivare veramente a tutti, perché ovviamente magari se è un concetto espresso in una filosofia particolare, ovviamente non attira le persone che non fanno parte di quella corrente, mentre questo libro può arrivare veramente a tutti in maniera semplice e comprensiva. Un altro insegnamento che ha dato l'autore, anche se non in maniera esplicita, secondo me lo troviamo nel modo in cui lui ha scritto questo libro e quindi attraverso l'intento di voler comunicare con Dio, lui è riuscito a maturare dentro di sé questi insegnamenti molto preziosi e questo ci fa capire che ognuno di noi potenzialmente ha questo contatto diretto con Dio. Come dicono gli sciamani, noi tutti abbiamo un raggio che ci connette al grande sole, al grande spirito, come se il grande spirito fosse una luce meravigliosa e tutti i suoi raggi sono connessi a ogni creatura di questo universo, a ogni creazione dell'esistenza, sia esso una pianta, un animale, una roccia o un essere umano. Quindi ognuno di noi ha un contatto con questa fonte, il segreto sta nel trovarlo e l'autore ci insegna che per trovare questo contatto a volte basta solo l'intento. Dicendola chiaramente l'autore fa capire, l'abbiamo già detto prima, che tutti possono accedere a queste informazioni, ognuno deve trovare la sua strada ovviamente. Noi abbiamo trovato quello dello sciamanesimo, altre persone possono trovarla in altre pratiche, però l'intento finale è quello di essere connessi al mondo spirituale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Fateci sapere nei commenti se avete letto questo libro Conversazioni con Dio e cosa ne pensate. E se volete consigliarci altri testi di spiritualità o di crescita personale, fatelo sempre scrivendo nei commenti. Noi vi salutiamo e vi chiediamo di lasciare un like, che sapete ci vuole un secondo, ma per noi è importantissimo per far conoscere i nostri video e il nostro canale. E noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!